La prima riguarda la discussione sulle questioni generali e la altra circa la nostra posizione in merito all'unione europea e all'euro. Ma ora in inglese mi dispiace. Well, bocciolo. Syriza has a background of history of more than a decade. It began on 2001. It began because of two elements. The first one was the existence of unity in action between the revolutionaries and reformists in the movement against the capitalist globalization. The second one was the searching for electoral alliances from the left reformist party of Sinaspismos. Because of its weakness, they were facing the threat of not reaching the 3% threshold and being voted out of the parliament. Allora, Syriza ha una storia di più di una decina d'anni. Nasce nel 2001 e fondamentalmente ha due elementi. Il primo è stato l'esistenza di unità nell'azione tra riformisti e rivoluzionari nel movimento contro la globalizzazione capitalista. Il secondo è stato la ricerca di alleanze elettorali da parte del partito riformista di Sinaspismos a causa della sua stessa debolezza. in realtà loro si trovavano ad affrontare la minaccia di non raggiungere neanche la soglia del 3% e conseguentemente di non entrare in Parlamento. Questi due elementi ci hanno dato la possibilità di applicare una tattica unità di fronte. E sto usando il termine unità di fronte perché, in realtà, perché della differenza della differenza tra riformisti e rivoluzionari non possiamo parlare di un fronte tradizionale. Unito in fronte. Ok, questi due elementi ci hanno dato la possibilità di applicare la tattica del fronte unico. Uso questo termine, tattica del fronte unico, perché in realtà, a causa della differenza, diciamo, in estensione e in grandezza tra riformisti e rivoluzionari, non possiamo parlare di un fronte unico in senso tradizionale. Durante le ultime decennie, Siriza si è avvenuto molti di fasi diversi. Unità in aczione dentro dei movimenti, sostenendo movimenti come il primo che ha successivamente bloccato gli esercizi per cambiare la Costituzione in order di aiutare la università privata nel 2007 o la rivolta dei giovani nel dicembre 2008. Durante gli ultimi dieci anni, Siriza ha attraversato diverse fasi. L'unità nell'azione dentro dei movimenti, sostenendo movimenti come quello che ha riuscito a bloccare, con successo, gli sforzi di cambiare la Costituzione, tali da consentire l'esistenza di università private nel 2007 o successivamente la rivolta dei giovani nel dicembre 2008. Ma ha attraversato anche rotture interne, come quelle nelle elezioni per il Parlamento europeo nel 2004 o quelle nelle elezioni locali nel 2010. Queste rotture sono avvenute quando il gruppo dirigente riformista ha cercato di creare un'alleanza con la socialdemocrazia senza che la sinistra fosse la forza egemone in questa alleanza. In tal modo, in tal senso, Siriza non può costituire un modello se lo guardiamo fuori dal contesto del movimento di resistenza e della situazione della sinistra politica in Grecia. La sinistra in Grecia è un po' di 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 un po'. La sinistra in Grecia, e parlo della sinistra e non del centro-sinistra, ha circa il 33% del voto elettorale, Siriza il 27%, il Partito Comunista il 5% e Antassia la coalizione di forze anticapitaliste l'1% e ci sono circa 45 organizzazioni anticapitaliste in Grecia. Se vogliamo spiegare il successo di Siriza, dobbiamo tenere a mente che la classe lavoratrice in Grecia ha condotto molte numerose lotte negli ultimi anni in Grecia per ribaltare le politiche della classe dominante. Più di 30 scioperi generali, tre dei quali scioperi di 48 ore, occupazioni di 30 scioperi generali, l'amministrazione pubblica, il movimento di preoccupazione delle piazze, il movimento contro il pagamento delle tasse ingiuste o per l'autoriduzione dei biglietti del trasporto pubblico e così via. E non dovremmo neanche dimenticare che questo movimento è riuscito a rovesciare due governi, il governo Papandreu e il governo tecnocratico di Papademos. Nonostante tutto questo, il movimento di resistenza non è riuscito a raggiungere nessuna vittoria fondamentale, quindi ha cercato di raggiungerla attraverso le urne. In questo sforzo, la classe lavoratrice ha scelto Siriza come strumento e non il Partito Comunista, che aveva in passato una percentuale doppia rispetto a Siriza. E questo è avvenuto per tre ragioni. La prima è che Siriza era attiva nel movimento, in contrasto al Partito Comunista, che era molto, molto settario. La seconda è che Siriza ha fornito un'alternativa politica, con la rivendicazione di un governo di sinistra. La terza è stata che ha sempre lottato per l'unità di azione della sinistra, specialmente tra Siriza, il Partito Comunista e l'Antarcia. E non dobbiamo neanche dimenticare che nel periodo tra le due elezioni, Siriza ha resistito fermamente a tutte le pressioni che lo avrebbero spinto ad unirsi a un governo di salvezza nazionale con i partiti borghesi. Tsipras non è Bertinotti ancora. E Tsipras ancora non è Bertinotti. Quindi oggi ci sembra che, oltre alle lotte, Siriza è l'alto strumento politico che la classe lavoratrice userà. C'è proprio inizia il fatto che nell'ultima assemblea di Siriza, conferenza nazionale di Siriza, erano presenti circa 35.000 aderenti. Tre anni fa erano presenti da 10.000 a 12.000 aderenti. Un errore fondamentale da parte dei compagni del Partito Comunista e dell'Antarcia è che vedono il governo di sinistra come una forza che semplicemente si limiterà a gestire il capitalismo. Adducendo, ad esempio, l'esempio di Akel, della coalizione Akel a Cipro. In realtà cambiano quello che dovrebbe essere il punto di partenza delle discussioni o lo evitano. Siriza, in contrasto con Akel o altri center-left parties, ha raggiunto questo punto con il programma di cancellazione del memorandum e di rinforzare le politiche delle classi dominanti. Quindi in realtà la discussione dovrebbe essere riguardo a quali condizioni noi possiamo procedere verso un governo di sinistra. come risultato di un'ondata di lotte e tenendo a mente che questo governo non è l'obiettivo finale, ma un passo transitorio che rinforzerà l'autostima e il potere delle lotte dei lavoratori. Quindi è ovvio, diciamo anche, che la maggioranza del gruppo dirigente di Siriza concepisce un governo di sinistra come un obiettivo principale. e per raggiungerlo intende adottare tattiche puramente elettorali. E' per questo che ha la tendenza ad adottare il realismo e di guadagnarsi i voti approcciando parti della socialdemocrazia. Contro questa tattica, nell'ultima conferenza abbiamo fondato la piattaforma di sinistra. che è composta, diciamo, dalla tendenza di sinistra di sinistra di sinistra con un'altra organizzazione anticapitalista come il progetto e ovviamente la DEA. Quindi abbiamo creato l'ala di sinistra all'interno di Siriza, la cui opposizione è sostenuta dal 30%. Quindi, diciamo, la parte anticapitalista dell'opposizione di sinistra è circa un quarto della stessa. Ed è una rete, diciamo, di attivisti e organizzazioni che conduce le lotte non solo nel terreno politico ma anche nelle organizzazioni locali e nelle organizzazioni dei lavoratori. L'obiettivo è costruire un rapporto di forze tale che si configuri come un ostacolo ai cedimenti della leadership riformista. Ok, l'impegno fondamentale di Siriza è questo, la cancellazione unilaterale dei memorandum e la cancellazione della maggior parte del debito. Quindi, cancellare tutte le rigi dell'austerità, un aumento nei salari e nelle pensioni, difendere la scuola pubblica e la sanità pubblica, la nazionalizzazione delle banche e delle grandi aziende pubbliche che erano state privatizzate, una forte taxazione dei capitali. In effetti, è un programma transitorio che apre la strada, la possibilità della classe lavoratrice di roversare la situazione attuale, aprendo al tempo stesso la strada per una prospettiva socialista. Questo è il programma di Siriza o della corrente di sinistra? Questo è il programma di Siriza o della corrente di sinistra? No, questo è il programma di Siriza, ma molte persone della leadership cercano di cambiare questo programma. Ma il programma ufficiale di Siriza è questo qua. Quindi, la resistenza sociale molto sviluppata in Grecia ha aperto la possibilità di un governo di sinistra. Quindi, la resistenza sociale molto sviluppata in Grecia ha aperto la possibilità di un governo di sinistra. per cancellare i memorandumi e tutte le misure di austerità che la classe dominante e i creditori hanno imposto durante la crisi. La prospettiva politica si basa sull'impegno a cancellare i memorandumi e tutte le misure di austerità che la classe dominante e i creditori hanno imposto durante la crisi. Quindi, se la sinistra e Siriza in particolare non rispetteranno questa promessa, il governo di sinistra sarà spacciato. O sarà, diciamo, rovesciato dalla destra. A rispetto alla destra greca. Oppure degenererà in politiche social liberali. Questo vuol dire che l'impegno a cancellare i memoranda deve essere, diciamo, raggiunto con tutti i mezzi necessari. Questo è lo slogan di Malcolm X, insomma, che ce l'ho tutti conoscendo. E tra tutti i mezzi necessari, specialmente sullo sfondo dell'esperienza ci porta, è inclusa la rottura con l'eurozona e l'uscita dall'euro. Quindi non necessariamente la prima scelta di un governo di sinistra. Ma necessariamente una scelta che non può essere esclusa dal campo delle possibilità contro i creditori e i mercati. Questa politica sull'euro non è una politica che non assume l'euro come punto di partenza. Piuttosto il punto di partenza è la determinazione a rovesciare l'austerità. Da marxisti capiamo, comprendiamo, che se gli sviluppi sociopolitici rimangono confinati nei limiti del capitalismo, un ritorno alla divisa nazionale può avere effetti negativi. La nostra politica non ha niente in comune con il protezionismo e il nazionalismo economico. Quindi non cerchiamo un modo affinché il capitalismo greco esca dalla crisi. Al contrario, perseguiamo una politica di rovesciamento dell'austerità e quindi del capitalismo. Ma questa reclusione nei limiti del dominio capitalista non deve essere assunto come inevitabile. Dopotutto le sfide che un governo di sinistra dovrà oggettivamente affrontare saranno più generali. Cancellare il debito o la maggior parte di esso. Nazionalizzare le banche. Rinazionalizzare le grandi aziende pubbliche privatizzate e le grandi aziende pubbliche di servizi privatizzate. Ridurre le libertà del capitale. E invertire la flessibilizzazione nei rapporti di lavoro. Quindi un governo di sinistra che rimanga fedele alla promessa di lottare contro l'austerità non può che accompagnare tutta una fase transitoria verso la vittoria della classe lavoratrice e l'emancipazione socialista. Ed è in questo contesto che dobbiamo inquadrare la nostra posizione sulla moneta. Una posizione che, in fin dei conti, non sarà giudicata esclusivamente dalla forza del movimento di resistenza e dalla sinistra in un singolo paese. Perché nell'Europa attuale una vittoria di sinistra per la classe lavoratrice scatenerà un effetto domino, un effetto di diffondere l'onda del cambiamento anche in altri paesi. E, d'altra parte, sarà un dovere di un governo di sinistra, prima di attuare dei diritti di resistenza, e dei passi fondamentali importanti di fare appello ai lavoratori e alla sinistra in un'omba per la solidarietà e per disporre delle forze necessarie a organizzare e sostenere politicamente le reazioni internazionali contro ogni tentativo di strangolare il primo serio sforzo di rovesciare l'austerità. L'ultimo punto che tratterò è la lotta contro i fascisti e contro l'emergenza di Alba Dorata in particolare. È una lotta fondamentale e la cosa importante è che i fascisti non sono riusciti a vincere nelle piazze laddove la predominanza era ancora dalla parte della sinistra. La lotta è una lotta comune e dovunque l'anello è una lotta comune. E questo siamo riusciti come sinistra a rispondere con l'unità di azione a questo riguardo, con l'eccezione ancora una volta del partito comunista. La lotta è una lotta comune e dovunque l'anello europeo si rompa ciò creerà condizioni migliori per l'intera sinistra europea. Se emergerà che l'anello debole sarà effettivamente la Grecia spero che saremo in grado di rispondere di essere all'altezza del compito. In Grecia e ad Atene è possibile che abbiamo la possibilità di cominciare a rovesciare l'austerità ma la lotta sarà in ultima analisi decisa nelle strade di Roma, Parigi e Berlino. Grazie mille, compagni. Grazie mille, compagni.